A Pesaro si parla di fondi pubblici, un tema caldissimo, una polemica grande anche per il centrodestra, qual è la sua posizione su questo? C'è una commissione che sta analizzando tutti gli atti, mi sembra che tutti gli atti siano fatti bene da parte dei dirigenti, poi se ci saranno invece responsabilità legali sarà la procura a vederlo, però insomma è giusto che il comune garantisca massima trasparenza anche perché sono stati fatti tanti lavori, tante iniziative, tanti eventi, tutti realizzati ed è giusto che tutti controllano come siano stati spesi quei soldi.